Sono molto contento perché stiamo lavorando tutti quanti tanto, tanto veramente per trovare comunque una quadratura e cercare sempre di farne la partita. È vero che stiamo soffrendo tanto però siamo sempre uniti e stiamo crescendo come squadra e quindi sono molto fiducioso. Io sono a disposizione per qualsiasi ruolo mi possa chiedere il mister, nel senso per me non è un problema, io voglio dare una mano, anche il portiere eventualmente, voglio assolutamente dare una mano e quindi sono disposto veramente a fare quello che mi chiede il mister e cerco sempre di dare il massimo. Ho cercato di mettermi a disposizione, di fare le cose semplici e comunque di essere a disposizione dei compagni e di dare una mano il più possibile. Poi giustamente sono ritornato dopo un infortunio abbastanza lungo e quindi devo salire anche di condizione a me però diciamo sono abbastanza soddisfatto di com'è andata. Ho cercato di stringerti il modo dell'arco e ai fatti. Sì ma perché comunque siamo tutti quanti disposti a sacrificarci per uscire da questo momento e cercare di toglierci le nostre piccole soddisfazioni. Ad oggi le nostre soddisfazioni sono anche portare un punto facendo fatica però non ci accontentiamo, noi vogliamo salire man mano di condizione, creare ancora più squadra e portare anche ancora più punti a casa diciamo. Però per il momento va bene così.